Sì, ci mancava da tanto. Ero dispiaciuto per i ragazzi, per la proprietà, per i tifosi, perché vedendoli allenare nel quotidiano si fa fatica a pensare che la domenica non arrivava la vittoria. Avendo giocato qualche partita, l'ho capito il perché, c'è quella frenesia di voler vincere a tutti i costi e quando c'è frenesia poi alla fine il risultato non arriva. Qualcuno ha detto dopo la parentesi di San Siro, ma è bello andare a giocare a San Siro e noi dopo abbiamo fatto delle belle prestazioni, ci è venuto a mancare solo il gol. E quindi oggi l'abbiamo trovato e poi sono stati anche bravi i ragazzi a difendere il risultato e quando c'era da ripartire si ripartiva. Quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono felice e contento per loro per la vittoria di oggi. Ma quando giochi contro un 4-3-3 è difficile prendere il play avversario. Noi sapevamo, avevamo preparato la partita, doveva giocare alle spalle di Gondo e quindi poi l'abbiamo quasi sempre cercato e da lì poi abbiamo fatto una bella manovra. E' logico, come dicevo poc'anzi, che potevamo fare meglio, però non è facile anche su un terreno non abituati, non è un alibi, ma non si è abituati su un terreno dove la palla è velocissima. E poi, niente, sono felice per i ragazzi perché... La chiave di lettura tecnica è stata proprio la superiorità numerica a centro campo del Pordenone nei confronti del Teramo? Sì, perché avevamo il rombo, no? Quindi con Burrai quasi sempre libero, le due mezzali che erano bravi ad allargarsi e poi c'avevamo il Bombaggi che veniva anche a palleggiare. Avevamo preparato così la partita. Sono stati bravi i ragazzi, delle volte anche meno bravi perché c'è sempre l'avversario. Però lo spartito della settimana era quello di riuscire a mettere in difficoltà il Teramo attraverso l'uscita su Burrai. Avete dato dimostrazioni di grande forza, nel primo tempo ottima personalità, buona tecnica nella ripresa, siete riusciti ad amministrare il risultato. Praticamente il Teramo non vi ha creato problemi più di tanto? Sì, il Teramo ha fatto le due ripartenze. Poi nel momento in cui ha giocato con i due esterni, con i piedi sulla linea, con i piedi opposti, là abbiamo un po' sofferto sulle palle in area. Però tutto sommato i ragazzi si sono difesi bene, con ordine, quindi tutto sommato la vittoria è più che meritata. Domanda extra, che è ormai un capitolo chiuso. Quanto è stato vicino al Teramo, ormai il Teramo ha avuto l'occasione e il piacere di conoscere il presidente, con il direttore Lupo, poi si va in quei casi al ballottaggio, per qualche voto magari mi sarebbe piaciuto. Poi se fanno le scelte, sono andato a Reggio Emilia, è così il calcio. Però sì, sono andato vicino e mi avvicinavo anche vicino a casa, perché so, essendo pugliese. Però da quel momento ho iniziato a fare il tifo per il Teramo, quindi sono vicino al Teramo. Il selezione di Caccetta è importante? Ma Caccetta è un giocatore che ci mancava in quel ruolo, per le sue qualità tecniche e anche morali, perché è un ragazzo che ha giocato quasi sempre, anzi sempre al sud, quindi sa cosa significa giocare quando si va, tra virgolette, nei campi caldi. Oggi ha fatto un buon esordio e sono contento dell'inserimento di Caccetta. Ringrazio la proprietà che ha messo a disposizione un'altra piedina fondamentale nello scacchiere. E questo Basso che firma le ultime due vittorie, non è vero in ogni caso? Speriamo che non sia un caso, perché non vincevamo dalla partita con il Cagliari, se non ero con la Coppa Italia, quindi mi auguro che voglia continuare a far gol, significa che poi il Pordenone vince la partita. Una dedica per questo vittorio? Male, la dedico ai ragazzi, alla proprietà che ci sono stati vicini e ai tifosi. Li ringrazio anche oggi, hanno fatto sei ore di macchine per venire a sostenere la propria squadra e quindi sono felice e li ringrazio per la vicinanza. Grazie a tutti.